Allora vai! 88 anni, 6 figli, 14 figli, 20 pro nipoti alla festa della nonna. Come si chiama? Calise Giuseppa. Giuseppa, ecco qua. Buon compleanno Giuseppa. Giuseppa, buon compleanno e tanti auguri alla cara nonna Biff Biff. Biff e Biff. Eh? Ciao per la vita! Ma si è chiamato un uomo da un tot ducchi, si è portato solo la cupa mia. La prima vita, ora... Aspetta, se mi so la cupa, non sta qua. Spazio! 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 Pascia bene! Computer! Spazio! 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 Un attimo di silenzio! Spazio! Buon bianco! Allora un attimo di silenzio, allora la descrizione di nuovo per piacere. Allora un attimo di silenzio, allora la descrizione di un attimo di silenzio. Allora un attimo di silenzio, allora la descrizione di un attimo di silenzio. Allora un attimo di silenzio, allora la descrizione di un attimo di silenzio. Allora mamma, senti, silenzio per favore, anche i bimbi perché capiscono. Allora 88 significa 88 anni. Questi diamanti vicini sarebbero i figli, sei figli. Sei figli, ogni figlio un diamante. Sono piacere, sono piacere, sono piacere, sono piacere, sono piacere. Madame. Ma hai amica? Ma tre me sono pernellate oggi. No, qui la fa,大感' Grazie.